Il gioco della Mar Ed ora a ferro C'è il 45 a 43 Ancora a ferro La Mar finora dalla donetta di tiro libero Vediamo se il ferro ritocca questa percentuale Ha segnato il suo decimo punto Finché verrà segnato solo da tre punti Di ferro Sono sempre dieci le lunghezze fra le due squadre C'è il pato Binelli Buono come un sottotitolo Grazie a tutti